La prima preoccupazione è stata quella di evitare una rivolta sociale perché l'impatto che questa privazione avrà probabilmente non riusciamo neanche ad immaginarlo. Ora sono tantissimi cittadini marsalesi che soffriscono del reddito di cittadinanza e il circolare di questi messaggi da parte dell'Inps ha creato sicuramente allarmismo anche perché non si è ben spiegato ai cittadini chi continuerà comunque a percepire la nuova indennità e chi meno. Per cui la cosa più importante che abbiamo deciso di fare era quella di aprire e di attivare già da oggi uno sportello informativo che permette al singolo utente per settore di reddito di cittadinanza di comprendere bene la propria posizione. Se rientrerà quindi tra quelli che continueranno a percepire, se invece sarà tra quelli presi in gestione dal centro per l'impiego per cui è immediata la privazione e la decurtazione e comunque aprirà delle prospettive. Dobbiamo dire che la situazione non è chiara, mancano ancora delle circolari anche a noi da parte del governo e del ministero competente per capire cosa avverrà di tutte le misure. Faccio un esempio, parte delle attività dei servizi sociali si basa su un fondo che è il fondo povertà destinato ai percettori di reddito di cittadinanza su cui noi abbiamo tantissime iniziative, abbiamo assunto tanti dipendenti, seguiamo minori, famiglie, quindi bisognerà capire l'impatto che si avrà anche sulle fonti di finanziamento attualmente previste. L'assessorato comunque è a disposizione? L'assessorato è con i cittadini, in ogni caso, noi non entriamo nel merito di valutazioni politiche, correttezza o non correttezza, perché nella mia esperienza di più di un anno qua mi sono resa conto che ci sono situazioni veramente drammatiche, così come magari situazioni un po' meno drammatiche per cui si può avviare effettivamente una politica inclusiva del lavoro. effettivamente, certo, è la base, lavorare su un'attività di inclusione professionale sarebbe stato forse la pedana di lancio e la base necessaria da porre in essere. Ciò detto, noi siamo qua, siamo qua, abbiamo anche sollecitato l'attivazione di tirocini inclusivi che avremo a valere sul piano di zona, proprio per dare l'opportunità a chi oggi si troverà in difficoltà, da qui a settembre-ottobre ci auguriamo di poter comunque aderire a dei tirocini inclusivi, permettendogli di entrare nel mondo del lavoro e percependo anche qualcosa. Nel frattempo credo che la cosa più importante sia dare la corretta informazione, perché questa ancora non circola e noi ci siamo con loro.